ciao mi chiamo simona e lavoro presso la concessionaria per il tuo gruppo oggi vi presento la mercedes dance classe b l'autovettura a 111 mila chilometri ha inoltre cerchi lega 17 pollici possiede tantissimi comfort tra cui sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la carrozzeria è in buone condizioni tranne la piccola imperfezione che chiaramente verrà rimarata dai nostri meccanici inoltre possiede un ampio bagagliaio ed ora te lo faccio vedere da come puoi notare il bagagliaio molto ma molto ampio e bisogna anche sottolineare una caratteristica importante la possibilità di poter recuperare ulteriore spazio abbassando questa leva dello stesso bagagliaio e recuperare ancora altro spazio visto che i sedili che sono in tessuto e in pelle possono essere anche ribaltati eccomi andiamo a fare una prova su strada della mercedes classe b allora innanzitutto elenchiamo quelli che sono i comfort principali della vettura da sottolineare che possiede specchi elettrici richiudibili possiede inoltre i quattro vetri anteriori e posteriori elettrici possiede inoltre i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori ma i sensori di parcheggio possono essere tranquillamente disattivati pigiando su questo tasto sensori di parcheggio disattivati a questo poi dobbiamo aggiungere che come hai già potuto vedere sul nostro sito gli interni in pelle e tessuto inoltre possiede il climatizzatore il lettore mp3 il navigatore con la funzione il servizio bluetooth quindi può essere anche usato collegando il cellulare per poter parlare in tranquillità che dire la guida è molto ma molto comoda anche il parabrezza è molto grande e permette quindi una buona visuale della della strada a mio avviso visto la grandezza della macchina questa autovettura sarebbe molto adatta per una famiglia ed è per questo che io ti aspetto in concessionaria per una prova dell'autovettura ti ricordo che mi chiamo simona lavoro presso la concessionaria perito group i nostri uffici sono aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00 il nostro numero è 0 975 520 350 ti aspetto in concessionaria